Perché voto sì al referendum del 4 dicembre? Voto sì per un'Italia più forte in Europa. La politica europea non è più politica estera, ma è politica interna. Oltre il 70% delle leggi che regolano la nostra vita vengono decise a Bruxelles, mentre nella nostra Costituzione si parla di Unione Europea in modo oggi quasi incidentale. Agli articoli 97 e 117 che trattano di equilibrio di bilancio delle pubbliche amministrazioni. L'Europa è quindi il solito gendarme dei conti, è il guardiano dello zero virgola. Con la riforma la Repubblica italiana cambia verso decisamente nei confronti dell'Unione Europea. Infatti con il nuovo articolo 55 il Senato delle Autonomie non sarà più un doppione della Camera, ping pong, ma l'espressione dei territori. I sindaci e i consiglieri regionali conoscono i problemi quotidiani, i problemi concreti dei cittadini e possono incidere quindi sia nella fase di formazione che in quella di attuazione delle politiche dell'Unione Europea e ne possono verificare l'impatto nei territori. Penso per esempio ad un utilizzo maggiore, un utilizzo migliore, un utilizzo più rapido dei fondi europei da parte del nostro Paese. L'Europa così com'è non ci piace, ma se non ci fosse bisognerebbe inventarla. E questa riforma ci darà più forza, più influenza, più credibilità per cambiare l'Europa. Un nuovo modo quindi di intendere e di vivere l'Europa ora è possibile. Si può votando sì al referendum.